cari amici di auto digest di tutto porsche oggi vi presentiamo un'automobile fantastica la porsche 911 sport classic la seconda serie delle sport classic questa 992 è a metà fra una gts e la turbo come la precedente 997 anche questa è in tiratura limitata solo 1250 pezzi la 911 sport classic rende omaggio alla tradizione porsche in particolare alla carrera rs 2007 che vedete in queste immagini riprendendone soprattutto il mitico alettone posteriore a becco d'anatra i parafango sono quelli larghi della 911 turbo ma senza le due prese d'aria laterali il tetto a doppia gobbia è ripreso dalla precedente sport classic 997 ma in verità è anche un po ispirato alle zagato degli anni 60 cofano e tetto sono in plastica rinforzata con fibra di carbonio cfrp per risparmiare peso i cerchi ispirati ai leggendari fuchs sono a fissaggio centrale da 20 e 21 pollici il colore sport grey metallic è ispirato alla prima 356 ma ci sono altri colori in gamma e il pacchetto di adesivi con i numeri laterali e le strisce su cofano tetto e spoiler può essere abolito non è solo il look della 911 sport classica renderla speciale ma anche il motore boxer 6 cilindri biturbo da 3 litri e 74 la trazione posteriore il cambio manuale a 7 marce con doppietta elettronica la potenza è di 550 cavalli il sistema di scarico sportivo di serie ha un sound emozionante le sospensioni attive p asm sono di serie e la ventura ha un assetto ribassato di 10 mm anche i freni ceramici pc cb sono di serie i 1250 esemplari sono stati comunque subito venduti e speculazioni a parte le quotazioni future saranno certamente elevate